Il maltempo in Toscana colpisce duramente lungo la linea ferroviaria Chiusi-Firenze. La pioggia è incessante, ha causato una infiltrazione di acqua e successivamente una frana lungo la massicciata all'altezza di indicatore alle porte della città di Arezzo. Il traffico ferroviario su questo binario è interrotto dalle 4.30 del mattino con conseguenti e pesanti disagi. Rallentamenti alla circolazione ferroviaria di oltre 20 minuti, mentre alla stazione di Ponticino i treni si fermano. Qui è stato predisposto un servizio di autobus sostitutivo per raggiungere il capoluogo. Sono in corso di riprogrammazione i servizi ferroviari, si legge in una nota di ferrovie dello Stato. Nel frattempo sono stati attivati i servizi sostitutivi con autobus fra Ponticino e Arezzo. Tu sei qua perché non c'è il treno? Sì, sì. Ora due treni sono sospesi, sono sospesi. Ha detto che vai a Pullman, c'è Pullman qui. Sono già uscito di lavoro, c'è un appuntamento ospitale, c'è un'analisi, vado a ospitale. I tecnici di RFI sono al lavoro, ma al momento non ci sono previsioni su quando il traffico ferroviario potrà riprendere regolarmente.